Salve a tutti il nuovo Sampdoriano e benvenuti! Benvenuti in questo post partita di Sampdorio Udinese, ci sono tre parole, godo, 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 poter continuare, godo, 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 solo quello si può dire perché è una partita vinta e rimonta, primi 15-20 minuti giocati neanche malissimo nel primo tempo, gli ultimi 15-20 minuti giocati in maniera imbarazzante, l'Udinese si è messo sotto e ha meritato il gol del vantaggio, non per come è arrivato, perché è arrivato veramente in una maniera vergognosa. De Paul tira da fuori aria, va addosso a Colle, rimbalza addosso, tira, Oderola para e rimpallo gol, solo a noi succedono i gol così. Già col Sassuolo abbiamo subito due gol di rimpallo così di nuovo, quindi vabbè abbastanza sfortunati nel gol, però poi abbiamo trovato il primo gol sul rigore con Candreva, il rigore è nettissimo. Mandragora calcia Candreva, quindi il rigore è abbastanza netto, anche se alla fine si fa male Mandragora e Candreva non si fa nulla, però il rigore è nettissimo. Candreva è infallibile, fa addirittura il cucchiaio, totti. Poi troviamo il gol di Torregrossa dopo 19 minuti, io intanto andatemi a seguire su Instagram, andate a vedere i post dell'arrivo di Torregrossa, che intanto forse hanno fatto anche i record di like di tutto il mio profilo perché hanno fatto tipo 230 like, quindi pazzesco. Sia l'arrivo quello ufficiale sia l'interessamento, quelli là che dicevano, ma sì l'avevamo preso tanto per, tanto per far panchina, tanto per fare un acquisto, ma tanto non serve a nulla. 19 minuti, neanche 20, 19 minuti gli sono bastati per zittirvi, perché adesso voglio sentire chi lo vuole chiatecare, voglio sentire. Io ho sempre detto, andate a vedere i post, non lo dico adesso che ha segnato, Torregrossa per me è, ho sempre detto una riserva, non mi aspettavo che segnassi dopo 19 minuti perché sarebbe stato impossibile aspettarselo, all'esordio, gol dopo 19 minuti, un conto dall'inizio ma dopo 19 minuti veramente pazzesco. La sua specialità sono i corpi di testa, io me li ricordo al Brescia, io gioco tante schedine, quindi io vedo tante partite, quindi anche magari partite abbastanza, che magari non guarda nessuno, quella di bassa classifica io le vedo sempre, anche perché l'anno scorso ci interessavano più da vicino che da quest'anno, e quindi Torregrossa lo conoscevo, Torregrossa è un giocatore che ti difende palla, ti fa salire la squadra, quello là che ti fa Quagliarella, perché Quagliarella non è più il giocatore di due anni fa che ti fa tanti gol, ti fa le giocate eccetera, adesso Quagliarella sta andando avanti con l'età, è un giocatore che ti tiene palla e ti fa lo stesso lavoro di Torregrossa, ovviamente Quagliarella magari dei paloi da fuori aria ti fa un gol pazzesco, Torregrossa ovviamente non te lo fa, perché Quagliarella rimane un campione, avanti con l'età ma ti rimane un campione, cioè Quagliarella fa dei cambi gioco che forse che tali fa la play per farvi intendere, questo qua è in maniera oggettiva, è ovvio che andando avanti con l'età non è più corsa, però non mi sento neanche poi nelle pagelle che adesso vi dirò di dargli un votaccio, perché comunque Ragneri deve capire, adesso l'ha capito, non puoi giocare con una punta o un trequartista, a parte che Verre non è trequartista, cioè è un trequartista ma oggi non ha giocato a trequartista, cioè io tutte le azioni che ho visto partiva dalla mediana, a volte era più avanti adrensilva di lui, quindi cosa serve? Come giocare con tre mediani? Non serveva nulla, quindi adesso Ragneri prima lo giustificava un po', perché comunque io ho sempre detto di giocare con le due punte, perché forse siamo l'unica squadra a giocare con una punta, perché è come fare un 5-4-1 a sto punto, che non ha senso, però prima non aveva, non avendo Torregrossa, aveva solo Quagliarella e Keita e Lagumina, Lagumina non lo conto neanche perché secondo me è una busta e non serve a nulla, Keita e Lagumina, scusate Keita e Quagliarella, quindi se avesse fatto partire tutte e due dall'inizio, poi sarebbe stato un problema trovare un cambio, metti che sei sotto, vuoi qualcuno che ti dà agilità eccetera, c'era Keita, vuoi qualcuno che ti tiene un po' più pala, c'era Quagliarella, ma se gli fai partire tutte e due dall'inizio non potevi aver cambi, invece abbiamo visto che Torregrossa non è uno che è venuto tanto per comprare, la società non l'ha comprato tanto per, perché abbiamo solo 2 milioni a disposizione, allora hanno detto vabbè facciamo un prestito con diritto di riscatto, prendiamo il primo che capita tanto per far contento ai tifosi, no, hanno agito molto bene sul mercato, qua c'è da fare i meriti anche alla società, perché hanno comprato un giocatore non solo perché ha segnato, ma a me Torregrossa piace tanto, piace tanto perché ti fa il lavoro che Quagliarella adesso non ti riesce a fare, ma in teoria è il lavoro che Quagliarella ti fa. Comunque, adesso andiamo all'epagello, comunque veramente una grande rimonta, una risposta da squadra, dopo la sconfitta con lo Spezza non era facile, andare sotto 1-0 non era facile, finalmente Ranieri fa i cambi al momento giusto, e ha spezzato in due la partita. Ranieri ha sentato benissimo, Torregrossa ha segnato dopo 19 minuti, 19 minuti e poi i cambi l'hanno decisa dopo 8, perché sono, no, 5 minuti forse, 5-8 minuti, sono entrati i 5 minuti rigore, il rigore non è, ok, rigore non è merito loro, e no, perché da quando sono entrati Torregrossa, che è età, abbiamo iniziato a pressare, prima eravamo palla a caso che Quagliarella non ti stoppa, perché, vabbè, poi ne parlerò durante le pagelle, intanto Odero 6,5, incolpevole sul gol, anzi l'aveva pure parata, ha fatto anche una bella parata su Mandragora, anche che se lì era davanti alla porta da solo, quindi lì forse sono più demeriti di Mandragora, però comunque ha fatto una bella parata Odero. Poi Beresischi 6,5, a me Beresischi è piaciuto molto, ha fatto anche dei recuperi importanti, contropiede di Lasagna una volta, comunque la spinta si intende molto bene con Candreva, a me Beresischi è piaciuto, quindi ho dato 6,5. Lo stesso per gli usciti Colle, che si prendono 6,5, perché Colle è partita molto ordinata, ha tenuto bene Lasagna, anche se qualche occasione di troppo concessa, però comunque il gol non è assolutamente colpa di Colle, perché se Depoli tira addosso, e la palla di rimbalza è avanti a lui, e riesce a tirare, poi segnala di rimballo, è colpa di noi di Colle. Yoshida molto bene, sull'1-1 quando ci si è spinti in avanti, c'erano Ketai, Torri Grossa molto avanzati, Ramirez molto avanzato, Yoshida ha fatto degli interventi puliti, che però non hanno permesso il contropiede agli avversari, quindi molto bravo. Augello sempre 6,5, però c'è da fare un altro discorso, Augello malissimo nel primo tempo, in difesa Depoli non gli ha fatto capire niente, ma Depoli sappiamo che tipo di giocatore è, che tra l'altro ha preso anche una traversa pazzesca, a fine primo tempo, ha tirato da lontanissimo, non so come ha preso traversa, meno male, però fa un assist perfetto a Torri Grossa, che fa un colpo di testa davvero bomber, perché quella te lo può far forse Quagliarella, però Ketai ovviamente non te lo fa, perché non ha il fisico di Torri Grossa, quindi arriva il momento giusto, tempistica giusta, usa il fisico senza far fallo, infatti non hanno annullato il gol, vabbè poi ci soffermeremo dopo su Torri Grossa, quindi Augello 6,5 perché fa veramente un bel cross, poi abbiamo Kandreva 7 più, segna rigore, talto facendo un cucchiaio, ma è un giocatore che ok, ti rallenta l'azione, ok non ti fa subito il cross, ma è un giocatore che comunque ti dà una spinta non indifferente, ti dà grinta, ti fa andare in attacco, ti tiene palla, ti fa cambi gioco, quindi comunque è un giocatore molto importante, Ekdal 6,5 recupera dei buoni palloni al primo tempo, nel secondo tempo fa il suo, ma il suo problema non era tanto lui, ma era più che altro che Avaverre che non ha giocato una buona partita, Quagliarella che non ha toccato palla, poi ci arriviamo dopo, quindi non è tanto colpa sua che non siamo riusciti a trovare il gol, quindi 6,5, stesso discorso per Adrian Silva che però ha fatto un po' meno, quindi si becca 6 più, Damsgar 6, Damsgar 6 uscito, abbiamo trovato i due gol, ci ha provato, ci ha provato bisogna dirlo, le sue giocate ha provato a farle, comunque con l'Udinese a difensori, comunque giocatori molto fisici, quindi per lui non era facile, però comunque a volte ha steso anche dei giocatori dell'Udinese, non so come, simulavano come non so cosa, soprattutto Lasagna e la Sempaterra, però non ha fatto una brutta partita, però non è grazie a lui che abbiamo vinto come di solito è. Verre è 5,5, Verre 5,5 i motivi che ho spiegato prima, si è abbassato troppo, e secondo me non si può più giocare col trequartista una punta, al massimo lo metti come ha fatto adesso Ranieri, ha tolto Adrian Silva, e ha messo Ramirez per esempio, e poi farli giocare lì, quindi a centrocampo hai Ekdala, Adrian Silva, Jaskilsen, Naira Mirez, Saverre, e Lili e tutti a centrocampo, non puoi più giocare col trequartista una punta. Quagliarella purtroppo do 5+, non voglio dar 5, perché comunque, ok, Torre Grosse e Chetano hanno fatto una bellissima partita, però bisogna dire che lui comunque, non ha giocato con le due punte, quindi non ha avuto l'opportunità di andare troppo in mostra, e chissà se avesse giocato con le due punte, se magari non avesse fatto gollo, assist, o comunque avrebbe inciso sulla partita, perché comunque ha lasciato troppo solo, i difensori dell'Udinese essendo molto fisici, l'hanno annullato. Poi andiamo ad Aschil sensei, prende sempre il giallo, forse era anche diffidato, mi sembra di sì, no, forse con l'Inter aveva preso il giallo, non mi ricordo sinceramente, forse non è anche entrato con lo Spezia, ho detto una cagata, però, prende sempre il giallo quando entra, bisogna dire la verità, però fa falli intelligenti, non fa falli stupidi tanto per farli. Poi andiamo a Chetà, vabbè, Chetà 7-, non fa gol, non fa assist, ma per esempio decide la partita, perché quando entra lui, e Torre Grosse, il ritmo cambia. Merito anche delle due punte, ma anche merito suo, che comunque ci mette grinta, e non come Spezia che passeggiava e rideva, ma ci mette voglia, ci mette determinazione, ci mette incazzatura. Poi arriviamo a Torre Grossa, uomo partita, voto più alto, 7,5, avrei potuto anche dar di più, ma comunque, non ha giocato, era abbastanza fresco, però, per aver giocato 19 minuti, e aver già segnato, cosa puoi dare, 7,5, fa un gol, fa un gol che vale, non vale tanto un gol, ma fa un gol che vale 3 punti, quindi fondamentale Torre Grossa, gran bel gol, gran bella prestazione, veramente, si è già integrato in squadra, praticamente, perché l'ho visto, oltre al gol, anche a fare delle belle sponde, eccetera. Poi andiamo a Torsby, 6, non ha fatto, non ha determinato la partita, quando è entrato lui, la partita era già, diciamo che ci hanno pensato Keita, ci hanno pensato Torre Grossa, e, a risolvere la partita, ci ha pensato Ramirez, e Torsby comunque, eravano sempre, in attacco, tra le due occasioni, e quindi, lui essendo molto difensivo, non ha partecipato moltissimo, Ramirez, si becca 7 meno, perché, è, è ritornato, non dico a Ramirez di una volta, però almeno, ci mette la grinta, ci mette la forza, che prima non ci metteva, e quindi, sono veramente contento, che torna a Torre a Ramirez di prima, intanto, godo per i tre punti, testa al Parma, voglio un altro, altri tre punti, perché il Parma, gioca domani, e, il video uscirà probabilmente domenica, che lo sto registrando, appena finita la partita, perché appunto, non ha senso farlo uscire alle 11 e mezza, anche dopo, perché, bisogna anche editarlo, e, quindi, sono veramente contento per i tre punti, forza Sampdoria, col Parma, altri tre.